Donna mia, stava cadendo il telefono, ok, salvato. Allora, oggi volevo riportarti quello che mi è successo ieri. Parlavo con una ragazza che si alena con me ormai da 7 anni, da 7 anni. Allora la mia domanda spontanea con Sabrina, le ho detto, ma Sabrina, ormai sono 7 anni che sei con me. Ti posso chiedere come mai cosa ti ha spinto ad andare avanti, a rinnovare sempre e a restare con me per tutto questo tempo? Lei mi ha detto, guarda Mattia, sono onesta, il fatto che tu sei una persona che va in profondità, mi sento seguita, mi guardi l'analisi del sangue, i vari esami che ho, cioè, tendi ad essere trasversale. Guarda che, ad esempio, quando andavo in palestra, sebbene mi seguissero, però, sai, io dicevo delle cose ma non mi sentivo ascoltata, cioè, mi dicevano cose come poi dicevano quell'altra. Insomma, morale della favola, quello che ho capito è stato proprio la qualità del servizio, come vado in profondità, ok? Le competenze trasversali che ho, cioè, andare a vedere le analisi del sangue, fare l'allenamento su misura, gli esami ormonali, quando c'è una persona che ha varie patologie, andare in profondità. Questo fa veramente la differenza, ok? Quindi, quello che dico, se tu ami essere seguita, vuoi essere seguita, vuoi una persona, ti rassicuri che non devi inventarti, vuoi stare tranquillo e in pace, allora posso essere la persona che va per te. Vai, inizia comunque dal test gratuito, trovi il link in bio. Grazie.